Quello della ZES, zona economica speciale unica, è stato un passaggio a tratti complesso per alcune aziende. Fino ad un mese fa, progetti e fermi, investimenti a rischio, la ZES unica si sarebbe potuta rivelare un flop clamoroso, visti i ritardi nell'approvazione delle autorizzazioni. Ora la situazione si è sbloccata, la politica ha svolto un ruolo fondamentale. La testimonianza di Luciano Guazzieri, titolare della Hightech Startup nel settore delle guarnizioni e lavorazione di materiale. Qual è stata la svolta? La svolta è stata fondamentalmente un convegno dove ha partecipato il nostro ingegner Pisano e ha avuto modo di conoscere l'assessore Magnacca, ha avuto modo di conoscere, questa era una riunione in Confindustria, il presidente di Confindustria, il presidente della Fira. Noi avevamo litigato per 6-7 mesi, nel giro di un mese loro sono andati a Roma e parlando con la ZES unica, con il dottor Caponetto, alla fine, ieri, finalmente abbiamo avuto questa autorizzazione. Determinante il contributo della politica, è un tema da sottolineare in questi casi? Assolutamente sì, come diceva giusto il dottor Guazzieri abbiamo iniziato grazie a Confindustria, un incontro organizzato precisamente a Confindustria Abruzzo, in quella sede abbiamo avuto modo di confrontarci sulla problematica con l'assessore Magnacca e col dottor Cianciotta e devo dire che esattamente il 25 giugno, quindi esattamente un mese fa. Da quel giorno sono stati accanto a noi e hanno lavorato per e con noi per riuscire a sbloccare questa situazione. Di che cosa si occupa? Entriamo nello specifico la sua start-up. Produciamo guarnizioni e componenti in materiale elastomerico, quindi morbido, riuscendo a lavorare da lavorazione meccanica, a coi torni e di fatto queste guarnizioni speciali sono prevalentemente utilizzate nel settore del beverage, cioè le macchine per l'imbottigliamento sono dei grandi consumatori, dei martelli dei molitori idraulici, di macchine automatiche. Il nostro mercato è prevalentemente al nord, serviamo, che ne so, Fincantieri, che per noi piccola start-up è un motivo di orgoglio. Ingegnere, quanto è stato importante per raggiungere l'obiettivo, perché sono stati otto mesi difficili, l'arte, perché è un'arte, della diplomazia? È stata molto importante. Allora, devo dire che le persone con cui mi sono confrontata erano assolutamente disponibili al dialogo e questo è importantissimo. Praticamente mi ha dato contro, io che sono uno che va di testa, ma fortuna che i ragazzi sono più bravi di noi. Bisogna sempre trovare il quid medium, l'equilibrio tra le due cose. Assolutamente sì, ci siamo riusciti. Adesso ci aspetta questo lavoro di corsa e speriamo di poter concludere per il 15 novembre, che è la data ultima che ci danno per poter finire questo tipo di operazione.